Allora, abbiamo visto il settore vendemmia, quindi tutto sommato non c'è di che lamentarsi. Saltiamo da una parte all'altra, dobbiamo completare Maurizio Antonini Miele, poi passiamo anche allo spreco alimentare, un altro tema importante, la caccia al cinghiale e alla nutria, che è un'altra questione, per cui ci sarà anche un incontro, un motivo anche di confronto istituzionale. Miele, come aveva accenato all'inizio, c'è un crollo nella produzione, risente tantissimo dei cambiamenti climatici con danni ambientali, voi siete sostenitori estremi del rispetto dell'ambiente e questo fatto che ci siano poche api e che quindi non possono produrre miele, questo provoca un danno generale un po' all'ambiente. Cosa è successo? Meno 80%? Beh, quest'anno, come detto prima, è successo un grosso difficoltà, eventi climatici, la brinata tardiva di aprile ha provocato un avversamento di temperature e quindi il fiorire delle piante non è venuto in maniera regolare e quindi questo ha provocato una riduzione della produzione del miele, soprattutto il miele di acacia, per meno 80%. Quando parliamo di api parliamo di sostenibilità, quindi noi oggi sempre di più, l'agricoltura sempre di più deve cercare di ridurre i prodotti fitosanitari. E questo noi italiani... Cosa vuol dire prodotti fitosanitari? Vuol dire quei prodotti agrofarmaci che vengono dati alle piante per le malattie fungine, le malattie tipiche delle piante, dei insetti. Che fanno male anche alle api. Che fanno male anche alle api. Ricordo però che l'Italia, i nostri agricoltori, nell'ultimo decennio rispetto a tutti gli altri agricoltori europei, hanno ridotto più del 35% l'utilizzo di fitosanitari. Questo è sufficiente? No, non è ancora sufficiente. Noi su questo ancora ci batteremo, tutti i nostri agricoltori sono consapevoli di questo. I certificati ambientali di qualità di SQNP sono importantissimi, sono certificati importanti che agli agricoltori vengono dati. Sempre di più si deve adottare una lotta integrata, e quindi tra l'ambiente e anche l'utilizzo di fitosanitari, con la riduzione dei prodotti fitosanitari. Questo sia per quanto riguarda le produzioni viticole, ma soprattutto anche per quanto riguarda i produttori frutticoli. Quindi oggi la parola d'ordine è sostenibilità ambientale, riduzione dei prodotti fitosanitari. E quindi su questo, questa è la linea maestra che noi dobbiamo andare avanti. E su questo la CIA insieme alle altre organizzazioni e gli agricoltori stanno facendo il massimo per portare a casa questo grande risultato, che è un risultato della collettività e di tutto il Paese. Ditemi se non c'è consapevolezza nella vicenda del Prosec, visti i volumi di crescita del Prosecco a livello mondiale. Cioè la consapevolezza noi oggi dobbiamo difendere il Prosecco, ma dobbiamo difendere il Made in Italy, dobbiamo difendere i prodotti agricoli italiani, che sono prodotti che rispecchiano un territorio, rispecchiano anche la qualità di come vengono fatti e rispettano anche gli agricoltori. Quindi il paesaggio, l'agricoltura, l'ambiente, sono prodotti importanti che poi... La salute, portano a toccare la salute. Certo, e che poi ritornano a questo. Un altro messaggio. Buongiorno, è uno scandalo quello che è successo al Prosecco. Una vergogna. E mi chiedo quale mente europea possa arrivare a questo. Questo è un altro quesito che anche noi ci poniamo, nel senso che non capiamo come mai, se da una parte ci sono le regole comunitarie che vanno a difendere i nostri prodotti, dall'altra parte si cercano invece di dare scredito ai nostri prodotti agricoli, ma soprattutto in casa, perché questo viene fatto dalla Croazia e quindi a un paese europeo. È inaccettabile una situazione di questo tipo. È una guerra interna, proprio veramente assurda. Relativamente al discorso del miele, noi abbiamo segnalato, da parte vostra, 1.168 apicoltori per un totale di 1.893 apiari. Solo provincia di Padova, sono tantissimi. E per fortuna però sono arrivati dei fondi di sostegno. Cosa vuol dire questo? Che praticamente avranno in qualche modo una forma... Sì, è stata una grossa battaglia di Cia, agricoltori italiani su questo, perché sulla questione delle brinate tardive ha colpito non soltanto il Veneto, ma ha colpito quasi tutto il nord Italia in maniera anche di aree abbastanza omogenee, quindi sia anche il Friuli, ma anche la Lombardia e anche l'Emilia. Quindi è stata fatta una norma nazionale proprio nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno del 2021, in cui è stato inserito un contributo per le aziende che hanno avuto danni per quanto riguarda le produzioni vegetali e anche siamo riusciti come Confederazione e come con le altre organizzazioni di inserire questi danni anche per le aziende apicole e quindi anche gli apicoltori per la prima volta avranno la possibilità di accedere a un contributo a fondo perduto nel caso in cui venga dimostrata una riduzione del reddito, ma soprattutto una riduzione della produzione superiore al 30% dell'anno precedente. Quindi questo fa ben sperare? Questo fa ben sperare, è un elemento positivo per i nostri agricoltori, per i nostri apicoltori, sia della provincia di Padova, ma anche e soprattutto per quanto riguarda l'area nord italiana. Anche perché il miele è importantissimo, adesso lo stiamo importando, quindi non è una cosa tanto positiva. Sì, adesso lo stiamo importando, non sapendo poi chiaramente i fiori come vengono fatti in altri paesi e qual è il controllo di questo. E i famosi antibiotici? Dicevamo prima, tutta la parte dei fitosanitari, tutta quella parte di antibiotici che vengono utilizzati nelle piante, le api sono catalizzatori di tutto quanto questo e trasmettono questo al miele. Quindi ecco, l'importanza del miele italiano vuol dire proprio questo, qualità e valorizzare un prodotto nostro, del nostro territorio. Un altro prodotto tipico del nostro territorio, che era un punto di forza, adesso con questi cambiamenti che ci sono stati, diventa un punto di domanda, è il mais. Che è successo anche qui? Beh, guardi... Meno 40%. Sì, ma diamo un dato, diamo un dato per far capire ai nostri telespettatori di cosa stiamo parlando. Dieci anni fa... Eh, che non è neanche tanto. Che non è neanche tanto. Diamo il dato di Padova, tanto per dare un dato e non del Veneto, più o meno si coltivavano circa 70.000 ettari di mais. Oggi se ne coltivano circa 35.000 ettari di mais. Questo è dovuto a cosa sostanzialmente? Da 70.000 a 30.000, cioè una riduzione del 50%. Eh sì. Però va spiegato questo. Cioè va spiegato il fatto che oggi sempre più gli agricoltori fanno la rotazione aziendale e guardi che la rotazione aziendale è una tecnica culturale molto importante per la biodiversità, per la valorizzazione del nostro territorio. E soprattutto vi è meno anche gli allevamenti intensivi che avevamo nelle aree e quindi sempre meno vengono gli allevamenti e quindi vi è necessità di produrre meno mais. Però ecco, quest'anno il mais, prima per delle gelate di aprile, poi per il problema della siccità e oggi poi anche per il problema delle grandinate, ha avuto una riduzione solo nell'area padovana di circa il 40% della produzione totale. e quindi anche in questo caso per il mais è stata un'annata molto negativa, soprattutto in determinate aree. E su questo quelli che ci rimettono di più sono gli agricoltori, o meglio gli allevatori che usufruiscono del mais per l'alimentazione del bestiame. Il mais per quanto riguarda l'alimentazione del bestiame, solo nell'ultimo periodo ha aumentato del valore del 30%. Aumentare il valore del 30% dell'alimentazione del bestiame vuol dire aumentare il valore della produzione dei costi, ma dall'altra parte non abbiamo un aumento del costo per quanto riguarda il nostro prodotto, cioè il nostro prodotto viene pagato alla stessa maniera come viene pagata prima. Quindi abbiamo maggiori costi, meno reddito e quindi vuol dire un'azienda in perdita. E quindi su questo noi dobbiamo valorizzare, dobbiamo stare attenti e dobbiamo mettere in campo quelle politiche che diano la possibilità alle nostre aziende di sopravvivere. Tra le altre cose, aumento dei costi anche energetici, perché in certi casi si è dovuto intervenire anche con l'invigazione. Assolutamente sì, i nostri allevamenti avranno sicuramente, e poi tra l'altro è proprio di ieri l'aumento del 30% della bolletta energetica a livello nazionale, quindi sicuramente... 40 dicono oggi, fantastico. Sì, 30-40% e quindi sicuramente avremo un ulteriore rincari, non solo per quanto riguarda i costi di produzione, ma anche per quanto riguarda i costi fissi, quindi la bolletta energetica per quanto riguarda i nostri allevamenti. Per far riflettere, Veneto Agricoltura dice che la provincia di Padova resta alla prima a livello regionale in termini di superficie evocata, stiamo parlando di mais, 34.882 ettari, soprattutto nell'area della bassa padovana, con un fatturato di 55.316 milioni di euro, una cifra importantissima. Una cifra importantissima, soprattutto per un prodotto importantissimo per quanto riguarda la nostra zootecnia, che ricordo che la zootecnia Veneta è la prima zootecnia a livello nazionale, quindi per la qualità del prodotto che viene dato, per gli allevamenti che viene dato, è un elemento estremamente determinante e importante per quanto riguarda l'approvvigionamento. Ecco, sempre per fare informazione cultura, questa è lei che è anche formativa su questo, che anche non si pensano a queste cose, che la temperatura ideale è tra i 28 e i 32 gradi e piogge che devono essere in certi periodi dell'anno, più frequenti, meno frequenti. Quando ci sono cambiamenti climatici, ci sono temperature come quest'anno 40 gradi, piogge che arrivano tutte all'improvviso, quindi è un disastro sostanzialmente. È un disastro perché la pianta, in questo caso la pianta vegetale del mais, ma tutte le piante vegetali vanno in stress, o stress idrico o stress di temperature, e quindi quando vanno in stress vi è la necessità di recuperare tutto questo e vi è una riduzione sicuramente della produzione. E questo stress di temperature, ce l'hanno sia la parte vegetale, ma guardi, c'è anche nelle stalle, cioè se noi pensiamo che una vacca da latte con l'aumento della temperatura riduce quasi addirittura del 20% la produzione giornaliera del latte, è un dato che questo deve anche far riflettere. Quindi gli eventi climatici che noi vediamo che oggi sono sempre più frequenti sono elementi determinanti per la produzione dei nostri prodotti e quindi anche per questo chiediamo sostegni sull'agricoltura e sull'attività dei nostri allevatori. È un fatto importantissimo. Chi invece non sembra essere stressato è il cinghiale e neanche le nutrie, sono veramente fuori dalla logica dello stress. Voi avete avviato, chiedo anche della regia, si mettono in onda alla locandina, basta l'invasione di cinghiali e nutrie, che sembrava un problema risolto ma non lo è, manifestiamo con i trattori per proteggere i nostri campi. Domenica 26 settembre alle 7.30 che ti ritrovo con i trattori a ospedale Toganio in via dei Tigli, scendete in piazza. Ecco qua, quindi cosa non è successo? Sembrava una questione che ormai si andava risolvendo, invece no. Ma guardi, anche qui un minuto per far capire il problema. Noi oggi abbiamo una legge che è la 152 del 92, che è una legge vecchia e che deve essere rivista, che dobbiamo passare dalla valorizzazione alla protezione e quindi su questo noi dobbiamo intervenire sulla fauna selvatica. La fauna selvatica oggi è un grosso problema all'agricoltura, sia per i cinghiali, sia per le nutrie, sia per i lupi e sia per... Anche i lupi nella nostra provincia? Nella nostra provincia di Padova no, però nella provincia tra Belluno, Vicenza, Asiago, sicuramente sì e quindi tutte le nostre malghe che hanno problemi con i lupi, vi è una grossa... Allora noi non siamo per debellare la fauna selvatica, anzi la fauna selvatica nella biodiversità è un elemento importante, ma deve esserci un elemento anche sostenibile all'interno di quel territorio. Oggi a Padova, soprattutto nei Colli Ugani, e non solo perché adesso stanno anche scorazzando per la provincia di Padova, i cinghiali è un grosso problema, continuano a creare grossi danni agli agricoltori, è una situazione fuori controllo e quindi dobbiamo ritornare su questo. Vi è da dire che la Regione, vi è da dire che il Parco Colli, nell'ultimo periodo, ha messo in campo tutti i strumenti e tutte le forze per cercare di contenere questo problema. I dati di agosto sono a circa 2000 esemplari che i Parco Colli sono stati prelevati, sono circa gli 80 i controselettori che controllano questo e hanno la possibilità di cacciare i cinghiali, sono circa 300 le antane in cui se le controllori si mettono per la cacciagione dei cinghiali, circa 50 antane nuove su aree particolari del territorio come quelle viticole che oggi il cinghiale va a prelevare l'alimentazione. Ecco, su tutto quanto questo dobbiamo trovare il legame tra i se le controllori e gli agricoltori perché le segnalazioni della presenza di cinghiali su determinati di cinghiali è importantissima e quindi è importante che poi i se le controllori intervengano in maniera concreta. L'interrompo un attimo, poi parleremo anche del di preservare la risorsa alimentare quindi la battaglia che vi state facendo contro lo spreco alimentare riparleremo anche di queste iniziative contro i cinghiali del nutri e pubblicità a pochi secondi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.